Allora, rieccoci con il professor Carlo Foresta. Stavamo, abbiamo, lei ha lanciato una provocazione che comunque, come mi diceva anche fuori onda, in America non è neanche tale perché è diffusissima, ovvero giovani ventenni che chiedono la conservazione del proprio ovulo, la crioconservazione, per poterlo utilizzare un domani. La mia provocazione non è tanto questa perché ormai è nota, talmente nota, come le dicevo prima, che la Google ha offerto gratuitamente alle sue impiegate ventenni il social freezing, ovviamente lo scopo è che non vadano in gravidanza finché hanno vent'anni e qui ci sarebbe da dire molto se questa è una vittoria della donna oppure una sconfitta, perché se una deve essere costretta a far questo, anziché ricorrere a soluzioni che le consentano di avere figli naturalmente nell'età più normale, allora bisognerebbe rivedere un po' le diverse posizioni. Ma la mia provocazione sta nel fatto che se la giovane donna crioconserva gli ovociti, perché il giovane maschio non deve crioconservare i suoi spermatozoi, la mia provocazione nasce da due considerazioni. Primo perché se una donna cerca il figlio a 40-45 anni, mi immagino che il partner possa essere fra 40-50 anni e quindi la qualità degli spermatozoi non è più, come dire, al massimo. E poi mi pare che anche la biologia voglia alcune regole, cioè utilizzare spermatozoi di una ventenne, scusi, ovociti di una ventenne e spermatozoi di un cinquantenne, insomma, credo che anche la biologia funzionerebbe meglio con cellule biologicamente analoghe dal punto di vista anagrafico. Quindi anche i giovani crioconservi nel loro spermatozoi a 20 anni. Assolutamente. Questo però può comportare, appunto questo fatto qui, può comportare dal punto di vista etico tutta una serie di parametri di valutazione, anche di alterazione delle cose, dell'andamento della seconda natura delle cose, perché a questo punto uno può dar vita a dei figli senza anche aver rapporti, cioè senza avere quella percezione biochimica della scelta del partner, insomma ci sono tante altre valutazioni, diventano tutto molto più semplice, no? È diverso, non è tanto semplice, perché forse la cosa più semplice è quella naturale. Ma non funziona più tanto, sembra, da quanto sembra. No, è che non è più vissuta in modo naturale, viene vissuta in modo artificioso, viene programmata dopo il lavoro, dopo la casa, dopo la macchina, dopo tutto, eccetera, eccetera. E siccome questi traguardi oggi si raggiungono in un'età sempre più avanzata, il figlio rimane l'ultima cosa. Io mi rendo conto che non è facile fare diversamente, ma mi chiedo se effettivamente la società, se la società sta puntando su una strategia che alla fine risulti vincente. Modello diverso. Modalità diverse di selezione della specie, possiamo anche dire a questo punto, perché cambiano le abitudini, cambia la vita, come è successo in ere geologiche passate, però lo stesso adesso arriviamo a selezioni diverse della specie. Poi per carità la capacità umana riesce a bypassare questo con delle strategie alternative, però di fatto questo avviene, pur essendo in una popolazione mondiale che continua ad aumentare, per cui a questo punto la selezione vincente sarà quella che naturalmente riesce anche a riprodursi. Però lei dalle sue osservazioni, non per divagare ma perché rientra un po' nel tema, ha fatto delle indagini, continua a fare da anni delle indagini sui giovani uomini e ha riscontrato che delle abitudini diverse di vita hanno provocato anche delle situazioni diverse, anche nella fertilità, nell'ibido dell'uomo, insomma tanti parametri che sono cambiati. Certo, gli stili di vita, l'ambiente incide molto sulla fertilità dell'uomo e questo fa sì che il potenziale di fertilità del terzo millennio sembra essere ridotto rispetto... Ovviamente il fatto che sia ridotto non significa che siano tutti quanti infertili, però significa che qualsiasi noxa, qualsiasi condizione tenda a peggiorare la produzione di spermatozoi, sposta quel soggetto immediatamente nella categoria dell'infertile. Noi dalla nostra esperienza possiamo dire che almeno un giovane su tre è a rischio di infertilità. 1 su 3, perché ci sono a 18 anni, abbiamo individuato fattori di rischio di infertilità in almeno 1 su 3 e questo è molto importante. Per questo noi continuiamo a parlare ai giovani, continuiamo ad andare ormai da 11-12 anni nei licei a raccontare quali sono i fattori di rischio, a sollecitarli, a sottoporsi ad una visita a 18 anni proprio perché c'è necessità di capire a 18 anni se sono normali o no e se sono normali diamo indicazioni per salvare il salvabile. Ma a 18 anni è facile salvare il salvabile, a 40 anni no. Assolutamente. Un paio di fattori che sono degenerati, che sono molto rischiosi, magari i genitori che ci ascoltano, nonni, possono allertare sull'uso o l'abuso. Ma ci sono vari fattori, ci sono le malattie sessualmente trasmesse, c'è il varicocele che quando c'è può essere fattore di rischio, c'è il discorso dell'uso di sostanze tossiche, c'è le abitudini di vita come l'aumento di peso e la sedentarietà anche qui incide negativamente, ci sono vari fattori che incidono negativamente sulla produzione di spermatozoi. E poi ci sono le malattie classiche, cioè per esempio se uno è nato con il testicolo ritenuto ed è stato operato, quello è un fattore di rischio importante. Se uno ha avuto un'orchite, un'infezione, quello è un fattore di rischio lo stesso importante. Ci sono le patologie classiche che vanno fotografate a 18 anni come risultato di quella patologia. Ci sono i fattori invece interferenti che vanno individuati e laddove non c'è niente il suggerimento stai attento. Poi le dicevo altri due piccoli particolari, il fatto che i giovani fumano sempre di più, usano Ashish marijuana come se fosse aranciata. Ormai l'Ashish marijuana è diventata veramente una cosa abituale. E' pericolosa perché intanto non si sa da dove viene, non si sa come viene utilizzata, non si sa come viene tagliata. E poi è diventato quasi un momento di socializzazione. D'altra parte devo dire che anche noi adulti abbiamo le nostre responsabilità. Perché finché a Padova si continua a parlare di dove devono andare a bere lo spritz, anziché fare una giusta informazione e dare alternative perché l'informazione non basta. Bisogna dare alternative, essere fautori di alternative. Che non è infatti quello il modo per trascurre il tempo libero. E anche il web diceva che altera tantissimo la percezione. Il web è una roba straordinaria. Noi dal web abbiamo avuto tanti elementi positivi che ci hanno aiutato a crescere, però è una giungla, è una giungla piena di agguati. E la sessualità nel web è un agguato pesante, soprattutto per i giovani che non hanno ancora avuto esperienze sessuali reali. Perché vivono una certa sessualità col web che non si avvicinerà mai a quella reale, a quella normale, a quella concreta. Loro vivono esperienze visive di situazioni cangianti, incalzanti, diverse, complesse, che non nulla hanno a che vedere invece con la sessualità reale. E poi quelle esperienze multimediali sono soltanto visive, stimolano al voyerismo a guardare dal buco della serratura. Non a vivere. Non a vivere. Manca la partecipazione di tutta quanta la sensibilità, che può essere cerebrale, che può essere affettiva, ma sensibilità tattile, termica, l'olfatto, il colloquio, manca tutto. C'è da dire un'altra cosa che è chiaro, non stiamo adesso demonizzando il ragazzo che per gioco va a farsi un passaggio su questi siti. Stiamo soltanto dicendo attenti perché si può cadere poi nell'abitudine e l'abitudine poi può diventare un qualcosa della quale si fa fatica poi a distaccarsi. E quindi uno poi perde di interesse per la sessualità reale, perde di interesse nella capacità sessuale e quindi vive una vita sociale che è influenzata fortemente da quella multimediale. Una domanda che ha creato un messaggio prima. L'utilizzo di cortisone può danneggiare le ossa? Sì, il cortisone, oddio, dipende da quanto e da quanto tempo, però è il farmaco che maggiormente incide negativamente sulla struttura dello scheletro. Quindi attenzione, se chi ha scritto ne fa utilizzo, forse di far sottoporsi a una valutazione diagnostica perché potrebbe essere a rischio. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.